buonasera a tutti amici della motorvalley benvenuti alla quinta puntata di team radio e soprattutto buon duemila ventidue è la prima puntata del nuovo anno siamo come sempre qui nel settimanale di motori della motorvalley in diretta da parsot imola piazza gram c5 ovvero il locale dove potete sempre gustare un ottimo aperitivo o qualcosa di buono in tutto l'arco della giornata io sono claudio fargione alla mia destra c'è come sempre l'impareggiabile iuri barbieri buonasera a tutti buon anno anche da parte mia ringrazio anche saluto tutto il pubblico presente qui qui da parsotto locale che come hai detto te è diciamo così visitabile in tutto è fruibile in tutto l'arco della giornata e soprattutto ci ospita sempre molto carinamente assolutamente sì perché gli amici valerio e marco ci ci ospitano sempre molto carinamente e dicevo ci si può affrontare tutte le parti della giornata dal dalla colazione al dopo cena assolutamente infatti noi più o meno affrontiamo sempre dalla colazione l'aperitivo e il dopo cena con noi questa sera abbiamo un ospite molto illustre vuoi introdurlo tu iuri o mi lasci l'onore dai ti lascio l'onore per per anzianità per anzianità infatti questa sera con noi in collegamento lo vedete già sorridente per voi che così audaci ci vedete anche con le mascherine ffp2 come vedete in collegamento abbiamo un bellissimo ragazzo un nostro amico ma prima di tutto una personalità istituzionale perché in collegamento con noi il sindaco di imola con delega allo sport sottolineo molto importante per la nostra trasmissione di questa sera ovvero il nostro amico marco panieri ciao marco ciao a tutti buona serata intanto auguri anche voi buon anno grazie per questa bella occasione insieme siamo nello stesso luogo ma distanti penso che intanto fare una radio e condividere sport e anche voglio dire informazioni e soprattutto anche attraverso la vostra grande passione che mettete nel motosport in autosport che sia molto bello e poi farlo dal nostro centro storico lo è ancora di più quindi saluto tutti i ragazzi del prashot in piazza e poi anche voi ringrazio per questa opportunità sì infatti marco ricordiamo è un grande sportivo lo ringraziamo anche per le parole che ha usato per presentarci assolutamente sempre molto gentile e prima di dargli spazio io direi di aprire la nostra trasmissione con una gara molto importante prima della gara però sì diciamo un po a chi ci vuole contattare a chi vuole fare delle domande al sindaco i nostri recapiti prego allora adesso mi avvicino al tuo pc per leggere il numero whatsapp che è il 347 il 345 26 17 544 e come ho promesso l'ultima volta lo imparerò a memoria ma non ho fatto i compiti a casa mentre siamo anche in diretta su facebook sulle pagine di mille cuori rosso blu radiamo e mille cuori motor valley che poi la nostra pagina esattamente quindi appunto abbiamo già detto mille cuori motor valley quindi entriamo subito in quello che è il punto focale della nostra trasmissione prima di dare spazio a marco con il quale parleremo sì di sport di motori sempre improntati principalmente a quello che è l'impianto simbolo della nostra città ovvero l'autodromo in stagino ferrari prima vorrei parlare e iuri mi appoggerà in questo della più grande gara che si sta disputando in questi giorni ovvero la dakar quella che dice che a gennaio a livello motoristico non succede niente in realtà non è proprio vero no assolutamente perché il primo gennaio con la prologa è partita questa questo rally ride che che si tiene da fine degli anni 70 dal 1979 è partito il 26 dicembre del 1978 dal trocaderò di parigi perché una volta era la parigi dakar poi dopo è stata lisbona dakar a seconda di dove si partiva anche parigi ageri dakar dakar cairo ci sono stati diversi formati adesso ci siamo spostati in arabia saudita esattamente quindi la corsa si sta disputando come dicevo nell'arco di tre di 14 tappe con un giorno di riposo quindi si concluderà il 14 gennaio e si è conclusa proprio oggi la quarta tappa eh vi diamo anche i risultati perché come dicevo eh stiamo seguendo le avventure di un pilota e di una navigatrice della motor valley che stanno facendo questa grande corso ovvero andrea schiumarini che eh sta correndo nella categoria auto con un mitsubishi pagero vrc plus del team air team rally art italy ehm vi posso dare i dati di ieri perché purtroppo il nostro porta colori ha avuto qualche problema nell'arco della prima tappa delle dune ha rotto il differenziale è stato dovuto trainare dal camion assistenza fino a fine prova a dieci ore di penalità ma insieme al suo navigatore stefano sinibaldi stanno disputando una corsa regolare e sono attualmente sessantanovesimi ehm in testa alla gara delle auto c'è eh il catariota una sera la piaggia tre volte vincitore della dakar mentre la tappa di oggi è stata vinta dall'inossidabile carlo sainz con la nuovissima audi elettrica che di motor valley qualcosa ne sa non direttamente ma indirettamente ma che poi padre di carlo sainz junior esattamente esattamente magari i nostri spettatori più giovani conosceranno più il figlio del padre ma è comunque una leggenda dei rally ha vinto tre dakar e due mondiali rally per quanto riguarda invece la nostra navigatrice stiamo parlando di eh una una 35enne di Castelguelfo ovvero Giulia Maroni che sta correndo come navigatrice di car carry nella categoria dakar classic ovvero la gara di regolarità dove ci sono oltre 140 mezzi storici eh al seguito della gara di velocità in questo momento sono eh all'interno di un Nissan Patrol che eh si trova in quarantanovesima posizione assoluta quindi seguiremo la gara di Giulia e Andrea poi per quanto riguarda Andrea avremo anche dei contenuti interessanti perché abbiamo le cronache della Dakar che tutti i giorni la nostra Giulia Giacomelli vi offre su millecuorirossoblu.it dove potete seguire diciamo passo passo la gara di Andrea che avremo anche nostro ospite il prossimo mese una volta ritornato dalla Dakar speriamo eh in una splendida posizione e eh domani avremo anche un contenuto esclusivo ovvero un breve video con un audio originale di eh Schiumarini appunto che ci racconterà quelle che sono state le sue avventure all'inizio di questa Dakar. Intanto voglio chiedere al nostro sindaco a Marco Pagneri se conosce la Dakar se eh lo appassiona questo questa tipologia di di gare che è un po' diversa da quelle che aspettiamo noi noi a Imola, rally ride, non abbiamo il terreno giusto diciamo per ospitarli. Però non poniamo limiti alla provvidenza assolutamente anche anche perché eh negli ultimi anni diciamo che Imola ci ha stupito. Assolutamente ma ce lo dirà il proprio il nostro sindaco. Allora la Dakar sicuramente è la polifunzionalità oltre la Formula 1 quindi superiamo eh cerco di essere smart come fate voi mi piace molto anche questa diciamo convivialità della della radio. No no la Dakar è una gara che ho sempre visto in televisione quindi così delle volte anche eh eh facendo un po' di zapping e poi devo dire che invece mio padre era molto appassionato e quindi mi raccontava e mi soprattutto eh da piccolino mi raccontava alcuni mezzi i primi mezzi magari che sono molto diversi da quelli di oggi che magari per la forma ci assomigliano poi però solo andiamo a vedere le tecnologie immagino lo sapete meglio di me e quello che va all'interno anche tra ammortizzatore strumentazioni eccetera è tutto molto più innovativo però penso sia molto molto bella molto anche avvincente sicuramente ha necessità di spazi più grandi di Imola e quindi non riusciremo eh però io un prologo in variante bassa lo proporrei tra l'altro adesso è nato anche eh quest'anno la Dakar è la prima prova del nuovo mondiale eh rally ride che è stato promosso da FIA e Fimi insieme quindi sia per auto che per moto quindi magari potremmo proporre qualcosa del genere alla FIA visto che siamo un impianto ben visto poi ce lo dirai dopo è uno start però ecco per chiudere dai direi intanto di fare un grande in bocca al lupo Andrea e Giulia che li seguiamo e li seguiamo anche da questo collegamento proprio per per vedere come andrà questa gara assolutamente sì e poi Yuri ehm qui invece lascio spazio a te perché per chiudere il discorso ma secondo me sì perché per chiudere il discorso prossimamente su questi schermi ehm nel prossimo fine settimana ovvero tra il 7 e l'8 di gennaio parte anche la prima gara su pista di questa stagione ovvero la Gulf 12 hours ovvero la 12 ore di Abu Dhabi ci spiegherai Yuri di che cosa si tratta sì è una gara una gara appunto di durata una gara che è collocata eh abitualmente all'inizio all'inizio dell'anno poi negli ultimi anni ci sono stati un po' di problemi eh storicamente ospitata appunto sul trattato di Abu Dhabi eh anche se le ultime edizioni sono state in Bahrain esatto appunto per per problematiche logistiche della della pista di di Abu Dhabi torna quindi sul sul golfo ehm e vedrà il debutto dal punto di vista ufficiale non è la prima volta che partecipa ma eh come pilota di auto di durata debutterà eh Valentino Rossi eh che come al solito dicevo non è la prima volta che eh corre alla alla Gulf tra le altre cose ha vinto anche eh nel duemila venti se non ricordo male la sua categoria adesso vado a memoria ma ho brancolato correrà anche questa volta con una Ferrari 488 GT3 quindi rimaniamo sempre in campo motorvalli e poi l'equipaggio è con Alessio Salucci e suo fratello Luca Marini diciamo conduzione familiare assolutamente conduzione familiare il team è il team Kessel che è un team storico per quanto riguarda poi colgo l'occasione anche per fare un grosso in bocca al lupo per questa gara il nostro amico Giorgio Sernagiozzo pilota di grande esperienza che abbiamo conosciuto alle 24 ore di Le Mans anche lui correrà con una Ferrari la 488 GT3 della F Corse eh la numero 51 per chi lo vuol seguire in equipaggio con Alessandro Costi, Tanni Anna e Rino Mastronardi quindi magari la prossima settimana vi daremo ragguagli anche su questa corsa. Non ho detto il numero della della vettura di Valentino Rossi. Perché è necessario? È il 46. Vabbè io lo dico perché non si sa mai. Detto questo bene adesso spazio a Marco Panieri. Beh abbiamo prima Marco ha cominciato a dirci qualche suo ricordo dal punto di vista del motorismo parlandoci della Dakar e quello che tuo padre Marco ti raccontava di questa fantastica corsa e allora partirei dai ricordi che tu hai fin da quando eri piccolo perché tanto sei molese. E sei anche giovane. E sei anche giovane. Siamo 31 anni. Sì esatto. Siamo coetanei e quindi ricordi che hai dell'impianto, del nostro impianto. Quello che mi ha fatto innamorare di questa pista. Beh diciamo che gli anni che abbiamo vissuto, quelli 90, dal 90, 80, insomma del 90 in avanti sono gli anni sicuramente molto interessanti per l'autodomo e anche da un lato a volte tragici se pensiamo a Senna e io lì avevo solo quattro anni ma se guardiamo più avanti anche anni veramente tosti di grande battaglie sia in pista ma anche grande pubblico rapicati sugli alberi lungo il fiume diciamo che c'erano e ci sono ancora delle foto anche se oggi andiamo in direzione gara o se andiamo all'interno dell'autodomo che ripercorrono quei momenti tantissime sono le immagini anche nei ristoranti, nei luoghi comuni della nostra città dove vediamo quanto il pubblico era legato a quella pista e è legato a quella pista e al tracciato e quindi penso che questo sia molto importante. Per quanto mi riguarda i ricordi erano prima con mio nonno materno, andavamo spesso nel senso che quando c'era la possibilità, quando sentivamo i rumori ronzare in pista, i motori diciamo, nel parco delle acque o comunque lì andavamo a vedere, a spiare dalla rete, a cercare di capire cosa c'era e cosa correva e cosa stavano facendo diciamo da questo punto di vista e queste sono le prime. Poi le Formula 1, qualche Formula 1 anche partecipato prima del 2006, qualche scatto e penso che sia stata una grande, insomma, bellissimi anni e mi ricordo anche ad esempio dei Gran Premi che mentre c'è il Gran Premio in autodomo a casa con i vecchi Windows diciamo di un po' di tempo fa, giocavo facendo finta di essere in pista a Ivola, quindi ho sperimentato diverse cose. Poi quando sono cresciuto un po' di più, per pagarmi gli studi facevo il fotografo, alcuni lo sanno, e ho lavorato con Marco Isola, l'agenzia del territorio, che saluta. Salutiamo il nostro amico Marco Isola, speriamo di averlo un giorno qui con noi e devo dire che con lui mi sono dilettato un po' in piste fuori e un anno facendo delle foto lungo la nuova variante e ho fatto lo scatto diciamo molto importante. Lili non l'avevo colto, con lo scatto manuale un 300 con la Canon abbiamo immortalato Simoncelli e Biaggi nel sorpasso e quando erano in curva e quindi si sono praticamente appoggiati, era un testa è stata la copertina di motosprint anche quindi è stata una bella occasione e devo dire che anche alla luce dopo di quello che è successo per Marco è un ricordo che ci fa venire sempre i brividi, ecco se pensiamo a quell'anno, poi era l'anno anche di Belay Rodriguez, insomma sono stati un bar in croce, era la madrina di quelle che era il 2009 e sono stati tanti gli altri eventi, penso diciamo dalla Formula 1. Marco scusa se ti interrompo però hai citato un bellissimo ricordo, tra le altre cose in un articolo l'ho raccontato appunto se non ricordo male, a ottobre l'ho raccontato nel nostro sito quel sorpasso che poi tu hai immortalato, proprio a fine ottobre eravamo a Coriano da Kate abbiamo fatto un video con lei, video che tutti possono vedere, la ragazza di Marco Simoncelli la ragazza di Marco Simoncelli, sì io purtroppo certe cose le do per scontate, ma scontate non sono io nel dubbio specifico, bravissimo e le abbiamo, le ho detto nell'intervista che io mi ricordo poi non so Marco anche tu ricordi questo, alla morte di Marco Simoncelli alcuni a Imola avevano lanciato l'idea che si potesse intitolare quella variante bassa a Marco Simoncelli, io ho questi ricordi qua sì era rimasta, diciamo che era rimasta all'epoca, era una delle proposte che giravano e che davano anche risalto a quel momento, a quel ricordo anche che ha dimostrato con quel combattimento quasi corpo a corpo perché è stato così quando si sono superati ma io direi senza quasi, Marco è stata una bella entrata cattiva è stata una bella gara, io me la ricordo come se fosse ieri, devo dire, eravamo lì in tanti come fotografi, alcuni anche appassionati, eravamo spalla a spalla lo spazio non era tanto, però devo dire che abbiamo raccolto in quella curva che è stata una curva di battuta anche per il nostro autologo perché purtroppo ha avuto anche uno spazio, se ci ricordiamo anche delle situazioni molto complicate con altri piloti per quanto riguarda il rettilineo che poi era un modo per evitare quel rettilineo lì quindi diciamo che è un pezzo dell'autodomo strategico che sicuramente andrà ricordato e chi lo sa, adesso a dieci anni dalla comparsa di Marco ecco perché io ho fatto una proposta a Kate Fretti ho fatto una proposta, le ho ricordato questa cosa e lei mi è piaciuta molto non lo sapeva che a Imola c'era questo sentimento all'epoca e allora ha fatto un appello proprio a te in questo video quindi ti invito ad andare a vederlo che è quello, intitoliamo la variante bassa a Marco Simoncelli insomma la studiamo quindi, esatto, quindi io te la intanto abbiamo dedicato un ottimo ricordo penso, diciamo, perché quello è stata veramente una cosa molto importante a Fausto Gresini che non solo è stato un imprenditore rilevante nel nostro territorio ma un corridore, un appassionato è stato nel CDA di Formula Imola campione del mondo è un amico della città è stato veramente una persona di cuore per la città, per la comunità e ha fatto veramente tanto per il territorio quindi anche con l'occasione voglio salutare tutta la famiglia e Nadia e i figli perché penso che hanno preso in mano una sfida importante ma hanno dimostrato quanto la famiglia possa portare avanti con cuore e passione anche quello che Fausto ha messo in campo che non era veramente tanto per il nostro territorio sfida che tra le altre cose hanno rilanciato quest'anno staccandosi hanno proseguito il progetto che era di Fausto Gresini quello di tornare a essere un team privato staccandosi dall'Apriglia l'hanno portato avanti quest'anno correranno tutto un team tutto made in Motor Valley perché saranno con Ducati è bello ricordarlo infatti esatto volevo farti una domanda Marco visto che abbiamo parlato di Simoncelli, di Superbike, eccetera a proposito dell'andamento della nostra pista quindi di quello che sarà anche il calendario dell'anno prossimo e degli anni a venire diciamo che c'è stato il grande ritorno della Formula 1 e ci sono tante gare internazionali che ospiteremo con grande piacere anzi invitiamo tutti a venirci a trovare ovvero il GT World Challenge il ritorno dell'Aleman Series e il DTM oltre al gran finale con le finali mondiali Ferrari alla fine di ottobre ecco la domanda che ti voglio fare un po' cattiva è questa parlando con degli appassionati di motociclismo ho sentito a volte qualche malumore perché insomma sembra che a Imola le due ruote siano passate un po' in secondo piano e c'è questo sentimento di mancanza nei confronti di quel grande spettacolo che era il mondiale Superbike ti chiedo quali sono le prospettive per Imola anche sotto questo punto di vista e quali sono le relazioni con l'altro autodromo romagnolo perché è un'ottantina di chilometri abbiamo il Misano World Circuit Marco Simoncelli che ha l'omologazione massima per le moto e ospiterà sia il mondiale Superbike che il mondiale MotoGP ci puoi spiegare se ci sono delle sinergie e se sì quali? beh sì sicuramente intanto così colgo anche di rispondere un po' a quello che diceva prima Iuri che condividevamo su Simoncelli vedete anche il fatto di aver intitolato a Misano nella casa di Marco l'autodomo appunto di Misano è un altro elemento che riconosce la Motor Valley che riconosce l'Emilia Romagna l'Emilia Romagna deve viaggiare insieme noi abbiamo diversi autodome nella nostra regione e penso che in squadra dobbiamo fare quello che è molto importante quest'anno la regione Emilia Romagna ha investito tantissimo dal punto di vista dello sport e soprattutto ha investito molto su quello che è auto e moto perché se pensiamo ai due mondiali di MotoGP se pensiamo a quello che è stato realizzato la nostra Formula 1 insomma sono investimenti corposi che hanno portato a questo quindi questo anno con anche la consapevolezza di quello che possiamo o non possiamo fare all'interno del nostro autodomo noi sappiamo tutti abbiamo delle giornate in deroga dobbiamo rispettare da un lato quello che sono la norma dall'altro cercare di dare forza a una progettualità che vuole essere sempre più grande e quindi il tema della polifunzionalità è stata la chiave di questi due anni deve proseguire nella polifunzionalità le moto ci sono ampiamente quindi è ovvio che quest'anno vedremo in pista nel 2022 il CIV e poi vediamo il 2023 io credo che nel 2023 ci saranno tutte le occasioni anche per lavorare sulla Superbike sul ritorno perché la Superbike è stata impianta stabile per l'autodomo per tanto tempo e penso che ci siano tutte le condizioni per riportarla quindi non è un addio è un arrivederci programmando bene le strutture poi visto che parliamo anche di tecniche parliamo anche di quello che è diciamo dietro le quinte allestimenti auto e allestimenti moto non sono la stessa cosa per i termini di sicurezza voi lo sapete meglio di me e lo sappiamo bene esatto siete in pista e anzi vi ringrazio perché penso che ringrazio voi per ringraziare tutti perché penso che se abbiamo raggiunto anche dei grandi risultati come quelli che abbiamo in calendario è perché c'è un'ottima attività anche di sicurezza in pista fatta appunto da tutti diciamo dai leoni dalla parte sanitaria a quello che sono ovviamente i martial team cioè tutti ovviamente le persone che sono in pista che lavorano e che si mettono in gioco quindi non è un addio è un arrivederci con Misano c'è un ottimo rapporto sia con la parte istituzionale quindi i sindaci e la città ma anche con la parte dell'autodomo ci siamo già confrontati più volte con Albani e con Benvenuti e la stessa Dorna e quindi ci saranno le condizioni per tornare in gioco poi l'anno prossimo il 2023 saranno i 70 anni anche dell'autodomo e i 100 anni del Cavallino quindi c'è da lavorare insomma assolutamente è un anno di grandi anniversari ti volevo chiedere hai parlato appunto delle manifestazioni e so che il calendario poi ce lo dice che sono state fatte sono state fatte delle scelte in virtù delle giornate rumorose che l'autodomo può utilizzare questo per legge non voglio entrare tanto in questo discorso quanto ho una domanda dal pubblico che è questa la domanda è ma è possibile che una qualsiasi fabbrica sia limitata in questo caso l'autodomo una qualsiasi attività sia limitata nel suo core business cioè questo sembra un po' assurdo però c'è una legge nazionale noi dobbiamo lavorare con gli strumenti che abbiamo allora io penso questo penso che si può come da sempre condivido io sono candidato un anno fa e ho deciso di mettermi in gioco insieme a una squadra non da solo ovviamente ma con degli obiettivi molto chiari rilanciare nella chiave internazionale l'autonomo Enzo Dino Ferrari era una struttura che grazie a tanti a chi è venuto prima di me aveva anche investito e quindi oggi se si è raggiunti a quei traguardi bisogna ringraziare chi lo ha diciamo diretto chi ha creato gli investimenti chi nel tempo ha deciso di crederci è ovvio che eravamo arrivati in una situazione molto complicata e molto complessa e quindi alle soluzioni complicate e complesse ci si può girare dall'altra parte e far finta che questa situazione non ci sia e quindi cercare di continuare a come dire navigare un po' a vista o riprogrammare e investire nella struttura e cercare di mettere da un lato un po' di ordine nelle giornate nelle iniziative nelle cose e dall'altro dare forza a quelli che sono gli eventi internazionali io penso che sia ineludibile il calendario di quest'anno il 2022 sono manifestazioni importantissime che al di là dei concerti se pensiamo alle attività motoristiche penso a GTV World Challenge la Formula 1 l'AC Racing Weekend l'Eleman European l'Eleman Series poi dicevamo il concerto di Vasco Rossi DTM per gem concerto di Cese Cremonini stai andando perfettamente in ordine il crame ci riproviamo insomma per via della pandemia non è facile perché ci sono anche degli elementi il CIV appunto il campionato italiano di velocità e le finali mondiali Ferrari e qui magari ci piacerebbe vedere in pista anche Valentino Rossi che vi seguì da Vagari intanto l'abbiamo detto prima ma intanto fa un bellissimo allenamento il prossimo fine settimana correndo la 12 ore di Abu Dhabi Valentino Rossi ha fatto un test quest'inverno con una squadra il WRT che è una squadra che porta delle Audi in pista si è una squadra Audi Sport e corre nel World Challenge Europe quindi non si sa mai potrebbe essere che alla prima gara che magari se lo ritroviamo il 3 di aprile se lo ritroviamo in Titlane con noi chi lo sa io comunque sai Yuri stavo pensando che forse Marco sta applicando la strategia dei giovani che sono in didattica a distanza e ha attaccato il calendario dell'autodromo davanti a lui dietro lo schermo del computer è per quello che se lo ricorda bene lo sapevo lo sapevo lo sapevo sta rubando da questo punto di vista no volevo farti una domanda tu hai parlato del rilancio internazionale dell'autodromo in sedino Ferrari che ovviamente era uno dei punti fondamentali anche di quello che è stata la tua campagna elettorale e il tuo mandato e abbiamo cominciato a vedere anche degli ottimi effetti in vista della stagione agonistica 2022 la domanda che ti faccio però è questa l'autodromo in sedino Ferrari che in pratica è un autodromo permanente all'interno del tessuto cittadino è un caso praticamente unico al mondo è piaciuto anche ai piloti è piaciuto molto ai piloti quando sono venuti qua nel Hamilton e Leclerc erano contentissimi non solo loro anche Giorgio Russell ricordo che ha fatto un team radio apposta per lodare la nostra pista ma al di là di questo ti volevo domandare siccome comunque come faceva notare Yuri questo può anche essere un limite all'attività che cosa significa per Imola avere l'autodromo in sedino Ferrari quali sono i riscontri diretti sulla città e anche quelli indiretti oltre all'indotto che può essere creato dal pubblico e quant'altro beh allora intanto ringrazio diciamo chi è parte della squadra quindi l'assessore Penazzi e Spada e anche le saluto e anche benvenuti che è il direttore Minardi Giancarlo Minardi che guida Formula Imola ovviamente salutiamo anche noi speriamo di averli prossimamente in trasmissione e poi salutiamo Bacchi Lega che è il presidente del Conami vedete ho citato questi perché sono i principali attori insieme alla regione Emilia Romagna come partner ovviamente per rilanciare l'autonomo cosa vuol dire le ricadute vogliono dire innanzitutto ricadute noi abbiamo fatto degli eventi diciamo a porte chiuse quindi le ricadute economiche sono relative perché se prendiamo la Formula 1 l'indotto sono 2500 persone che comunque saturano le camere dei nostri alberghi che sono circa 1500 sul territorio e danno comunque un po' di economia a ristorazioni bar centri storici eventi iniziative e le aziende che lavorano abbiamo contato che sono oltre 90 le aziende che lavorano ad esempio solo con il Gran Premio di Formula 1 locali poi ci sono facchinaggi assistenze allestimenti tutta una serie di cori quindi ci può essere una ricaduta diretta per rispondere alla tua domanda che sono quelle legate agli eventi ai singoli eventi e poi ci sono dall'altra parte delle ricadute indirette interzionali tantissime aziende che stanno cercando di investire qui sul territorio al 2A che hanno già annunciato sono aziende internazionali che hanno detto sostanzialmente noi ci siamo perché Imola ha una visione internazionale e ritorna nel panorama mondiale quindi questo è fondamentale anche per rilanciare il tema dell'attrattività degli investimenti e rilanciare le opportunità con Minardi stiamo anche mappando tutte le aziende della Motorvalle noi dobbiamo lavorare di più su questo meccanismo della Motorvalle e insieme anche a Faenza dove ci sono ad esempio penso all'Alfa Tauri ma anche altre realtà anche lo stesso Team Gresini a sede a Faenza esattamente anche il Team Gresini quindi la chiave giusta è lavorare sull'internazionale Marco io ti volevo chiedere questo dal punto di vista degli investimenti ne verranno fatti ne sono già stati fatti alcuni importanti in tema sostenibilità l'anno scorso l'autodromo poi correzzi mi se sbaglio ma ha acquisito dalla FIA appunto la Stella Verde se non ricordo male si chiama così per la sostenibilità poi per poter disputare per poter ospitare i Gran Premi di Formula 1 ha bisogno di un'altra certificazione che state che stiamo acquisendo è stato è stato reso pubblico il progetto del Bosco per l'autodromo poco tempo fa ci vuoi spiegare un po' questo anche questo progetto della sostenibilità dell'autodromo visto che è poi un tema caldo in questi ultimi mesi in questi ultimi anni beh oggi il tema della sostenibilità è fondamentale noi stiamo incrementando da un lato il Bosco appunto legato alle emissioni insomma per dare una compensazione ma stiamo lavorando anche sulla parte green quindi tutta la parte fotovoltaica e l'implementazione di quello che è la parte legata all'energia anche come attività poi sugli eventi ad esempio si è lavorato sul tema dell'economia circolare e su altri elementi che sono fondamentali questo ci ha permesso di portare con una mappatura alla prima stella presto arriveremo alle tre strelle che sono il massimo diciamo per gli autodomi internazionali quindi questo sarà un grandissimo livello per noi perché servirà anche per chi viene a fare eventi anche ad avere indietro certificazioni iniziative e anche come dire una sensibilità diversa rispetto al tema ambientale è nato grazie a un progetto appunto che condiviso con la giunta e con la struttura dell'autodomo che da un lato compensa le CO2 quindi le giornate di emissione con dei boschi urbani e con iniziative anche di investimenti legati a quelli che sono gli spazi che noi abbiamo negli ultimi anni ricordo a tutti si è diciamo rinnovato il centro medico si sono fatti degli investimenti anche sugli stabili che abbiamo a disposizione e presto si lavorerà anche un po' su tribune e su altri spazi che abbiamo a disposizione quindi è ovvio che questo serve per incrementare giorno dopo giorno quella narrazione che dicevamo prima che necessita sempre di investimenti la regione ci ha permesso di portare grandi eventi noi abbiamo ricordato Formula 1 auto e moto ma ricordiamo anche il mondiale di ciclismo il mondiale di ciclismo ci ha portato sul nostro territorio una visibilità e un'opportunità anche di realizzare in 20 giorni un mondiale che ha regalato immagini veramente molto suggestive e l'autodomo è stato il fiore all'occhiello dove poteva ospitare questa struttura quindi la polifunzionalità tra 160 gradi Marco quel mondiale il mondiale di ciclismo 2020 Claudio magari non lo dice ma era il suo sogno di bambino quindi no no lo dico lo dico era uno dei miei sogni segreti che si è realizzato nel largo di 20 giorni quindi ancora adesso stento a crederci dico la verità non l'ho nominato perché qui siamo in un contesto motoristico però visto che l'hai nominato te Marco mi fa molto piacere ricordarvi è un evento che ha fatto segnare tutti ha fatto segnare tutti specialmente a me che si sa che ho un cuore da ciclista volevo farti un'altra domanda Marco tu hai parlato prima del contesto motorvalley noi siamo mille cuori motorvalley quindi mi fa molto piacere che tu abbia posto l'accento su questo ente ecco ti chiedo tu nel tuo ruolo di sindaco di Imola e con delega allo sport come ti rapporti con tutti gli enti che fanno parte di questo grande consorzio che è la motorvalley che rappresenta la nostra regione nel mondo beh noi intanto abbiamo fatto una cosa che ci siamo siamo di nuovo città motori quindi questa è un'altra cosa Elena è la nostra delegata in città motori se voi adesso arrivate al casello di Imola sulla destra prima della rotonda c'è un cartello che dice Imola città motori e che ci rifà come dire ci rinserisce nel quadro delle città motoristiche italiane questo è un progetto legato a Lancia l'associazione nazionale dei comuni italiani e in più insieme alla motorvalley quindi alla regione Emilia Romagna lavoriamo per ricostruire anche qui opportunità sinergie che valorizzino quello che è il cuore dell'Emilia Romagna cioè la motorvalley non è altro che le aziende il territorio le emozioni la passione il cuore ma anche le competenze che a livello di territorio possiamo rappresentare e il filone che unisce tutto questo è la via Emilia nel senso che noi abbiamo la fortuna di avere come dire la forza di mettersi in gioco da questo punto di vista qui quindi devo dire che la motorvalley è un ottimo veicolo per promuovere quelle che sono le opportunità della nostra regione nel mondo quindi pensiamo a quello che è stata la Formula 1 ma pensiamo anche al city dressing alle opportunità che metteremo in campo e adesso oggi non mi posso ancora dare troppe informazioni ma stiamo lavorando a qualche bel progetto di promozione anche attraverso la motorvalley ma anche attraverso più che promozione anche attraverso a percorsi di grande figure per la motorvalley quindi ci metteremo in gioco unendo magari dei contenitori che sono un po' inusuali ecco come la Rocca che ad esempio è fresca fresca di nuovo finanziamento sì la Rocca mi ricordo anni fa negli anni 2000 una mostra su Senna dentro la Rocca sì nel 2004 esatto nel 2004 in occasione dei vent'anni della morte del campione brasiliano dei dieci anni pardon della morte del campione brasiliano esattamente e quindi ed è una location come si dice adesso un posto come dicono a Brisighella un posto come dicono a Oxford esatto bravissimo che si presta poi a questo tipo di eventi c'è una domanda c'è una domanda da uno dei nostri ascoltatori anzi tre domande un piccolo commento che giro a Marco ovvero ci ringrazia dice buonasera Andrea della Salandra che è un nostro collega di pista chiede sprint race sì o no per il gran premio di Formula 1 anche se questo credo che sia una domanda da rivolgere più a Liberty Media apertura della prevendita per i biglietti quando e infine se abbiamo pensato ad una grande risorsa che può essere rappresentata dai tifosi olandesi che calano come un'orda barbarica per seguire il campione del mondo Max Verstappen ci invaderanno ci invaderanno a te la risposta Marco allora innanzitutto la sprint race mi sembra che sia in arrivo questo dovrebbe essere ci prepariamo psicologicamente da ufficiali di gara bisogna bisogna vedere quali sono le novità però potrebbe essere potrebbe essere per quanto riguarda diciamo i biglietti so che si sta lavorando noi abbiamo fatto un po' il piano e quindi ci siamo penso che sia questione di poco tempo diciamo rispetto a prima non avevo detto che abbiamo anche l'ISO 20-121 che ci permetterà anche questo di raggiungere ottimi risultati dal punto di vista ambientale e poi siamo già pronti dal punto di vista delle questioni burocratiche per quanto riguarda la messa in media dei biglietti ecco diciamo che per via della situazione anche si sta un po' studiando quali sono le migliori sinergie perché ovviamente adesso io vi dico ho vissuto entrambi i due gran premi precedenti quindi il primo era nato a porte aperte e si è trasformato a porte chiuse il secondo invece era nato a porte chiuse e è rimasto a porte chiuse quindi anche lì i protocolli le iniziative le strategie quante persone mettere come fare diciamo che si è abbastanza pronti sapendo che il nostro impianto ha una capienza molto ampia che possiamo tenere in maniera diciamo corretta isolata e ben protetta vari ospiti sia dall'accessibilità quindi dall'arrivo via auto e sia da quello che è la parte insomma delle gare quindi diciamo che secondo me la vendita è un po' collegata a quello che è l'impatto del vaccino possiamo dirvi che insomma dal punto di vista anche dei nuovi penso alla terza dose a quelli che sono i nuovi super green pass ovviamente quello che si metterà in campo questa volta sarà una diciamo pacchetti che sono già previsti anche un po' da quello che è la situazione attuale quindi ci immaginiamo il pubblico bisogna vedere quanto pubblico beh comunque è già un messaggio molto positivo e molto interessante prego Iuri c'è un commento sì no c'è un commento di Mattia Maimura che salutiamo che dice che è un piacere ascoltarti sindaco ed è bello capire che enti come anzi si muovono in sinergia per Imola città dei motori la sinergia è sempre importante salutiamo Mattia intanto è una cosa fondamentale ecco nel frattempo salutiamo anche Iccio Fabri che ci ha scritto prima che dice sarebbe bello rivedere a Imola Valentino Rossi l'ultima volta è stato nel 99 ovvero l'ultima volta che abbiamo ospitato il moto mondiale qui a Lenza di Nocerrari che aveva una bellissima titolazione perché era il gran premio città di Imola esattamente esattamente ecco infatti abbiamo visto apparire in sovraimpressione adesso il commento salutiamo anche Laura Doria che prima ci ha scritto Laura Doria ci ha scritto ci saluta che è la detta stampa di Andrea Spimarini esattamente quindi ci fa piacere salutarla è una grandissima appassionata avevi un'altra domanda Yuri pronta vada pure lei ingegnere allora procedo io allora no Marco diciamo che ci hai dato proprio un'informazione totale di quella che è un po' la presenza dell'autodromo nella nostra città ti faccio una domanda personale per quale motivo nel momento in cui ti sei insediato come sindaco hai scelto di tenere per te la delega allo sport beh innanzitutto la delega allo sport è una delega molto importante come la sanità la sicurezza e come altre e ho deciso di tenerla perché ritengo come ha fatto lo stesso presidente Bonaccini che sia un punto qualificante della propria comunità un punto predominante e anche da giovane penso che rappresentare lo sport all'interno di quello che è il mondo associativo e quello che rappresenta Perimo ricordo tutti che su 70.000 cittadini 48.000 praticano sport a tutti i livelli e quindi è sicuramente una grande opportunità e poi perché volevo dare un'impronta anche da un lato di riqualificazione e di rigenerazione dall'altro di sinergia e di forza condivisa anche a quel tessuto associativo sportivo molto forte ecco ci sono tante deleghe come il sociale come il volontariato come altre che sono anche collegate e collegabili su alcuni principi però penso che il tema dello sport per Imola sia un tema identitario e che possa collegare come vediamo anche la polifonzionalità dell'autodomo e quindi altre deleghe che in realtà hanno altri assessori perché lo stesso autodomo è delegato su un altro assessore il sociale su un altro la scuola su altri però ecco per quanto mi riguarda anche per la progettualità che volevo mettere in campo mi piaceva ricoprire quello che era anche un impegno diretto dal punto di vista sportivo ecco perché noi abbiamo in ogni quartiere abbiamo oltre 10 frazioni e diversi quartieri in ogni quartiere in ogni frazione ci sono impianti sportivi piccoli, grandi che siano vicini alle scuole vicini agli spazi che hanno bisogno anche di investimenti ma sono motivo di aggregazione quindi diciamo che era un doppio impegno da un lato per rilanciare lo sport a livello territoriale e dall'altro per dare anche forza a un progetto nuovo dove magari delle volte lo sport passa un po' il secondo piano Marco io ti volevo fare una domanda una domanda personale una domanda sulle emozioni noi di vista ci conosciamo almeno di vista ci conosciamo da almeno 10 anni perché comunque frequentavamo la stessa scuola e ti ricordo ti ricordo molto bene tra l'altro mi fotografo cominciavi a fare il fotografo e hai cominciato con gli spettacoli che facevamo noi al nostro istituto Paolini quindi mi ricordo molto bene questo e ti volevo chiedere qual è stata che emozione hai provato la prima volta che sei entrato in autodromo da sindaco perché dai molese io immagino che ci siamo credo per il mondiale di ciclismo tra l'altro quindi un esordio abbastanza importante esattamente diciamo che intanto il mondiale di ciclismo è partito così il 23 settembre era la giornata della proclamazione mattina in comune e il 23 pomeriggio c'era la presentazione dei mondiali di ciclismo a Palazzo di Varignana quindi è stato un po' di approcce e Bonaccini diceva uno dei sindaci più fortunati durante la conferenza uno dei sindaci più fortunati in Italia perché nei primi sette giorni di mandato ha fatto già un mondiale di ciclismo io dicevo ma in realtà sono neanche sette ore però al di là delle battute quello che devo dire è sempre bello è che comunque ci si emoziona tutti i giorni in tutta la città ecco poi l'autodomo ovviamente è la cosa che ci rende più famosi in tutto il mondo più orgogliosi e anche la responsabilità più grande perché è una struttura che se non si mette in campo nel modo corretto può avere delle ripercussioni molto forti un po' l'abbiamo già percepito e penso che noi dobbiamo guardare al futuro anche con investimenti e soprattutto con quella passione con quel cuore che quella pista dà e quindi l'emozione è fortissima altissima devo dire che insomma sono tanti gli eventi cerco sempre di essere presente e di usare anche quella pista come trampolino di lancio per la nostra città perché penso che anche quando arrivano delegazioni quando arrivano imprese quando arrivano persone da fuori fargli vedere questa struttura fargli vedere anche solo dei posti che noi magari non diamo per scontati la sala monitor un box o la pit lane ci sono persone che mi è capitato quando ero lì presente con loro che si sono inchinati e hanno baciato l'asfalto oppure ci sono state scene epiche voglio dire quindi sicuramente è un tracciato è una pista è una struttura che riempie a tutti noi l'emozione i brasiliani che arrivano e che guardano anche solo di cobra oppure altri che per dire vanno a vedere cercano subito il monumento di Senna altri che vogliono andare a vedere le cose insomma si sentono elettrizzati da questa cosa quindi è veramente fortissimo una delle parti più belle del nostro parco delle acque minerali che non sempre un cittadino emolese guarda e ammira è proprio la stesa di ricordi che i fan di Ayrton Senna lasciano attaccato alle reti del nostro circuito nelle vicinanze del monumento quindi quello ricordi una volta mi ricordo anni fa che mi sono messo a leggere le lettere che venivano scritte sono cose davvero da brividi assolutamente e che sono brividi che nel bene e nel male il nostro autodromo la nostra città ha dato a tutto il mondo ma io vorrei sottolineare un altro aneddoto visto che si è parlato del parco delle acque e della sostenibilità dell'impianto tu Marco mi correggerai Imola in pratica è un anello che cinge un polmone verde uno splendido polmone verde che è il parco delle acque minerali che come il dottor Costa ama ricordare il dottor Costa non ha bisogno di presentazioni l'autodromo ha un po' preservato anche da quella che è la cementificazione selvaggia del secondo dopoguerra la cosa bella è un aneddoto di cui si parla in autodromo del sette volte campione del mondo Lewis Hamilton che è la prima volta che corre in Formula 1 a Imola nel 2020 facendo la ricognizione del percorso passeggiando a piedi si ferma al parco delle acque minerali e rimane estasiato osservando quella che è la natura e la balaustra che è proprio all'esterno della curva quindi tu da sindaco come vivi anche questa presenza di questo polmone verde che c'è all'interno dell'autodromo e come viene ancora di più valorizzato dalla presenza dell'impianto beh allora il parco delle acque minerali ha 150 anni di storia da poco e quindi è un parco veramente molto importante per la nostra città c'è il Monte Castellaccio sono luoghi il Cacciari che è il centro di tennis lo stadio e sono tutti inglobati in quel percorso in quell'anello che tu prima citavi le novità dell'anno prossimo ma anche le novità in generale che abbiamo deciso di investire in quel parco lo stiamo riqualificando e poi stiamo procedendo anche con investimenti importanti presto ci saranno anche dei nuovi giochi dei bimbi per i ragazzi e vi invito ad andare a vedere anche se siamo un po' cresciuti perché sono giochi che staranno in piena sintonia con l'autodomo Enzo Dino Ferrari sono a tema diciamo sono giochi motoristici sono a tema sono a tema e sono innovativi e quindi penso sia anche questa una bella occasione per vivere questi spazi diciamo a 360 gradi come era una volta cioè le famiglie andavano lì vivevano nel parco vivevano quello che erano i motori vivevano il contesto gli animali e noi abbiamo deciso di investire tanto e adesso anche al di là della riqualificazione oggi il monumento Senna che tu prima citavi è stato tutto risistemato riaperto un po' e presto faremo anche qualche altra manutenzione nei monumenti lì vicino che sono molto importanti e poi ricordiamo Rassenberg insomma anche altri spazi ci sono assolutamente ci sono anche tanti cittadini che hanno tante cittadine ma anche associazioni che hanno investito direttamente con quei monumenti con quelle cose alla quale va detto grazie perché penso che hanno fatto qualcosa di molto importante cioè creare un legame per sempre con Imola e con l'autodoma quindi è molto importante con questi giochi creiamo la prossima generazione di ufficiali di gara assolutamente di facciamo sperimentare esatto 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 prima Marco prima Claudio ha citato il dottor Costa che come ha detto non ha bisogno di presentazione io sotto Natale ho chiamato il fratello l'avvocato Carlo Costa il nostro amico Carlo che avremo poi prossimamente ospite storico speaker del nostro autodromo e che mi ha raccomandato di portarti i suoi saluti quindi colgo l'occasione in diretta vi ringrazio insieme al trofeo Bandini e penso che anche lì sia stata un'ottima occasione abbiamo premiato Stefano Domenicali che è un altro grande molese che abbiamo la fortuna e siamo orgogliosi di portare nel cuore soprattutto di oggi vederlo dove è nel gradino più alto della Formula 1 ecco voglio cogliere questa occasione per chiederti brevemente perché mancano 3 minuti 5 minuti scarsi alla chiamatura stiamo larghi di dire anche magari ai nostri ascoltatori che non conoscono bene la storia di Imola e dell'autodromo di Imola qual è il contributo di ricordare te da sindaco qual è il contributo che ha portato la famiglia Costa quindi a partire da Checco poi per i figli poi dopo i figli il dottor Claudio Costa e Carlo Costa alla città di Imola cioè io come ho detto all'avvocato al telefono noi siamo tutti figli vostri perché senza senza la vostra famiglia noi non avremmo potuto sfogare questa grande passione che abbiamo beh lì si è partito da un diciamo da un tracciato che era tra baglie, fieno, terra e cose un po' inizialmente era come dire campagnolo bucolico bucolico cittadino campagnolo e storico e poi si è trasformato in un grande autonome inizio di no Ferrari quindi anche qui uno stretto rapporto appunto con Ferrari ma soprattutto anche la visione che c'è stata cioè creare un autonome e lavorare su quello che erano le moto le corse e le iniziative ovviamente ha portato a rilanciare un territorio dal punto di vista vocativo quindi è una storia dicevamo prima oltre 70 anni quindi tutti dobbiamo essere grati e penso che anche Costa e gli entrambi i fratelli Costa hanno e dimostrano hanno dimostrato e dimostrano quanto sono legati penso anche alle cose che magari non tutti oggi voglio dire è semplice parlare magari della storia di quello che sono le radici eccetera ma anche quello che vivete voi dietro le quinte il tema della sicurezza in pista se pensiamo a quello che ha inventato anche il dottor Costa per la sicurezza in pista e quali erano i sistemi e quali erano le cose era tutto la mitica clinica mobile nominiamo la clinica mobile esattamente che oggi è un punto di riferimento anche per quello che è tutti i gran premi quindi voglio dire Imola è sempre stato un centro di innovazione e anche di come dire di forte attenzione dal punto di vista del motorsport e vorrà esserlo anche per il futuro credo assolutamente immagino di sì quindi ci stiamo avviando verso la conclusione quanto tempo abbiamo ancora Iuri dalla regia due minuti mi hanno detto due minuti due minuti allora il sin ecco era sparito per un attimo il nostro signor sindaco è ritornato non lo vedevamo più quindi ci avviamo verso la chiusura quindi visto che abbiamo tutto il tempo io Marco colgo l'occasione per ringraziarti di essere stato nostro ospite e per l'interessantissimo approfondimento che ci hai offerto dal tuo ruolo istituzionale speriamo di averti anche in presenza nei prossimi mesi visto che noi continueremo fino a maggio e ci sarà occasione quando vuoi venire il nostro ospite noi ti accoglieremo a braccia aperte intanto sono io che vi ringrazio ringrazio chi ci ha ascoltato quindi grazie Claudio grazie Yuri ma grazie a tutti quelli che hanno ascoltato questa trasmissione fate bene andare avanti e lavorate su questo perché il cuore della Motor Valley passa anche da Imola passa da qui e dobbiamo cogliere mi piace che lo state facendo a pochissimi passi dalla via Emilia che è quella via che congiunge appunto tutta l'Emilia Romagna sulla Motor Valley quindi l'augurio più grande è di proseguire con il motore e con le auto e lavorare con cuore passione e poi vedere in pista questi grandi eventi e metterci alle spalle questi anni un po' complessi e un po' difficili che però ci hanno anche portato delle opportunità quindi grazie a tutti e buona serata veramente di cuore io direi che è un bellissimo messaggio di speranza con cui possiamo chiudere quindi Yuri a te un saluto ai nostri suoi ascoltatori beh sì ringrazio come sempre chi ci ha ascoltato anche dal vivo chi ci ha visto in maniera molto ardita ma le mascherine ci coprono oggi abbiamo occultato forse è meglio così lo faremo anche in futuro e diamo l'appuntamento a settimana prossima diamo l'appuntamento alla settimana prossima con la sesta puntata di Team Radio sempre alle 19 sempre in diretta sugli stessi canali sempre qui da Parsot piazza Gramsci 5 a Imola con un altro illustre ospite che vi sveleremo nei prossimi giorni e anzi è una ospite quindi già vi preannunciamo questo detto ciò noi vi salutiamo vi diamo appuntamento alla prossima settimana salutiamo ancora anche Marco Panieri il nostro sindaco e soprattutto sempre a piedi su gas bravo grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti